Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che in verità scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. In FIPILI possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sulle raccordo Siena Firenze a causa di lavori è chiuso lo svincolo di Monterigioni in entrata e in uscita in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Bettolle per lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Taverne e Darbia in entrata e in uscita in direzione Bettolle. Uno sguardo ai cantieri della città di Firenze per la riparazione di una condotta idrica in piazza Taddeo Gaddi. La rotatoria rimarrà chiusa fino al 19 marzo da Via dei Vanni a Via Brunzino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!